Alleluia, Alleluia, Alleluia Molte volte, e in diversi modi nei tempi antichi, Dio ha parlato ai padri per mezzo degli profetti. Ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del figlio. Alleluia, 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 Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Il Signore si atribuò E con il tuo Spirito Dal Cangelo si conduca Poi a te, oh Signore In quel tempo i pastori andavano senza indugio E trovavano Maria e Giuseppe il bambino Adagiato nel giocatore E dopo averlo visto Riferirono ciò che il bambino era stato detto Tutti quelli che odivano Si stupirono delle cose dette loro dei pastori Maria da parte sua Custodiva tutte queste cose Meditando nel suo cuore I pastori se ritornavano Glorificavano e lodando Dio Per tutto quello che avevano udito e visto Come era stato detto Quando furono compiuti gli otto giorni Prescritti per la circoncisione Gli fu messo il nome Gesù Come era stato chiamato dall'angelo Prima che fosse concepito nel greco Parola del Signore Glorificio 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 Allelu Magneto Grazie a tutti.